Ciao a tutti e a tutti bentornati e benvenuti in un nuovo video settimana prima di San Valentino quindi ho pensato perché no realizzare due look uno ovviamente come vedete è un po' più semplice, fresco, artistico mentre l'altro è molto più sensuale quindi poi sarà a voi scegliere io insomma vi ho dato un po' di idee quindi spero questi look vi piacciono e che appunto possiate utilizzarli e vi lascio alla realizzazione iniziamo a realizzare il primo look per San Valentino ovviamente parto con una base, in questo caso utilizzo il primer di Mulac questo è super bello perché è molto leggero però è coprente rende il tutto più uniforme dopodiché dalla mia palettina, questa qua che ho realizzato insieme a Cosmify e Giulia vado a prendere un colore rosato, questo qua marroncino rosato che si chiama appunto You Can Sit With Us tra l'altro super a tema San Valentino questa palette sul sito questi giorni ci sono gli sconti quindi vi lascio qualche dettaglio giù nell'info box se vi interessa vado a realizzare una sfumatura molto lieve giusto per accentuare la piega poi da questa palettina qua di Nabla vado a prendere questa colorazione qui che si chiama Philosophy e la applico su tutta la palpebra mobile e la parte iniziale ed ora inizia la parte creativa del tutto vado ad applicare un po' dell'ombretto You Can Sit With Us anche nell'angolino interno qui così adesso che andiamo a creare tutti i vari cuoricini la usiamo un po' come struttura di base come sfondo per creare i cuori ovviamente utilizzo i miei super hydraliner di Super Beauty ovviamente tutte le tonalità del rosa, del fucsia e anche questo qui rosso quindi andiamo ad usare Smush, Bubble Bat e questo qui singolo si chiama Cherry Bomb questi eyeliner sono stupendi per fare questo tipo di eyeliner e ovviamente si attivano con l'acqua mi aiuto con un pennellino piccolo 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 inizio realizzando i cuori più scuri che sono quelli rossi ovviamente li potete posizionare poi dove più vi piace e poi disegno gli altri, degli altri colori per rendere il look un po' più particolare e colorato sono andata ad utilizzare un eyeliner verde questo qui di Banana Beauty si chiama It's Dope lo vado a realizzare molto sottile nella parte esterna per non coprire i cuoricini e lo vado ad allungare molto ovviamente ho realizzato la mia solita collina all'interno le ciglia finte utilizzo sempre quelle della mia linea della Mid Mood Collection queste qua sono le numero 02 sono bellissime e si adattano ad ogni tipo di occhio hanno una forma molto allungata prima applico giusto un velo di mascara perché io ho due peli di ciglia come sapete quindi in questo modo mi fanno un po' da guida per la banda delle ciglia finte che altrimenti non hanno un appoggio diciamo per quanto riguarda la parte inferiore prendo sempre un pochino di You Can See It With Us e lo sfumo riprendo poi anche il colore che abbiamo usato sulla palpebra e invece lo applico nella prima parte dell'occhio utilizzo una matita molto chiara all'interno dell'occhio per rendere il look più romantico questa qui che ho usato io la Faux Wikes di NYX la 03 quindi questo è il primo look che ovviamente è più grafico e romantico e adesso andiamo all'altro che invece mi avete richiesto su Instagram che in realtà è veramente super semplice quindi iniziamo sempre con il nostro primer prendo la palette Nauti di Huda Beauty e inizio a creare una sfumatura con i due colori più scuri che sono Spicy e Untamed mi tengo sempre nell'angolino esterno inizio a sfumare il prodotto poi anche nella piega mi tengo molto alta con la sfumatura e la porto anche un pochino verso il centro del viso e ovviamente sfumo, sfumo, sfumo prendo il colore Flirty e mi aiuto per sfumare questa zona sotto il sopracciglio ora iniziamo a fare la nostra cut crease cotton fioc acqua micellare e vado a pulire la zona in cui voglio creare la mia forma in questo modo vedete già come mi viene fuori e poi dovete soltanto seguire la linea che avete tracciato e mi aiuto o con un correttore bianco oppure io utilizzo la base di Pluiz questa qui è la Rumor Zero come pennello utilizzo sempre i plastic brush della mia collezione con Cosmify questo qua è il K e inizio a tracciare la mia cut crease mi aiuto con un pennellino pulito per sfumare la zona in cui si incontrano i due colori ed ora sempre dalla nosy rivado a prendere il colore Flirty e lo applico sulla cut crease che abbiamo appena realizzato sfumo di nuovo la parte in cui si incontrano i due colori per creare una bella sfumatura aiutatevi con il pennello che avete utilizzato per applicare la parte più scura ora prendo il colore Flower Power e cerco di prelevare solo la parte chiara e lo applico sotto il sopracciglio guardate quanto è brillante e ovviamente nell'angolino interno anche qui vedo di eyeliner in questo caso nero utilizzo questo qui di Anastasia solito mascara come base per le nostre ciglia e vado ad applicare le stesse che ho messo anche qui applico il correttore anche qui vi faccio vedere come termino la parte sotto utilizzo Spicy che è lo stesso causato nell'angolo esterno poi prendo la matita Kajal di Mulac questa è nella colorazione Chocotone e la applico qui soltanto nella parte più esterna senza arrivare proprio nell'angolino e la sfumo leggermente ovviamente mascara sotto anche qui ora faccio base sopracciglia che tra l'altro trovate sul mio profilo TikTok se volete vedere perché è una base molto semplice luminosa e fresca e vi faccio vedere il risultato finito quindi questi sono i due look terminati con anche appunto la base come vi ho detto è molto luminosa e leggera allo stesso tempo non la sentite per niente sulle labbra mi sono tenuta molto naturale quindi ho messo una matita in questo caso questa qui è la Nude Collection di Fatima per Cosmify sopra ho applicato ovviamente il mio amato Lipoil di Astra fatemi sapere sotto nei commenti quale look vi piace di più ovviamente questo è più fresco come vi ho già detto molto più artistico romantico questo è più sensuale non ci piova assolutamente giusto siamo penso tutti d'accordo detto ciò io spero questa idea di look di San Valentino vi possa piacere e che voi la possiate ovviamente utilizzare quindi andate e festeggiate l'amore in tutte le sue forme io vi mando un bacio grande e noi ci vediamo molto molto presto ciao